Gentili, radioascoltatrici e radioascoltatori, un evento. Italiani, amici, voi che siete in ascolto, la fisica italiana si spegne la fiancola che per anni ha guidato le schiere della scienza nazionale sui sentieri del progresso e della modernità. Già da questo istante negli atenei, nei laboratori, nelle fabbriche, nelle scuole... E' un signale potentissimo. Sì, sovrappone alla nostra trasmissione. Proviene da Rione Muoto, forse da Via Nazionale. Da Via Panisterna. 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 Zip. Da Via Panisterna.